Buongiorno amiche e amici di Yamamoto. Qua oggi per presentarvi il prodotto della Yamamoto Research, Neoflor. Perché Neoflor? Uno dei problemi principali degli atleti, soprattutto in off-season, dunque quando l'apporto calorico è importante, è a riuscire a mangiare le quantità necessarie di calorie e b fare in modo che queste calorie siano poi anche assorbite. Per cui molto spesso ci troviamo di fronte a un intestino, a uno stomaco che fanno fatica a digerire e poi a assimilare le sostanze che noi andiamo a ingerire, dunque i carboidrati, le proteine. Neoflor ci può aiutare in questo. Contiene otto ceppi diversi di probiotici che ci aiutano nella scomposizione degli alimenti nell'intestino e in un migliore assorbimento. Dunque ricordate, non è solo la quantità di cibo che mangiate ma la qualità del cibo che andate a assimilare e Neoflor in questo è unico e ci può aiutare. Un saluto a tutti.